Signori buonasera, oggi è il 13 febbraio 2015, ci troviamo a casa di Grant Sloan, un personaggio dello spettacolo, un grande attore e siamo sempre in compagnia con il buon Giuseppe, sicuramente detto il gobo di Notre Dame. E quando vedi questo video, non dimenticare quello che abbiamo parlato stasera. Stiamo registrando un video per Mediaset, scusa per favore, Berlusconi ce la registi. Scusaci Silvio, noi siamo sempre di Teleleco, stasera parlavamo del maestro Califano, del maestro Franco Califano che è Grant, è conosciuto personalmente, com'era Califano nella vita? Come dicevi tu, un uomo incomprensibile. Ciao caro, ciao, ma alla prossima. Tutti ora è andato a salutare che stiamo facendo vita, non si è andato nessuno, tutti ora. Scusate, i capelli ormai io ho detto che non me li faccio più per partire da questo. Allora, e lui ci diceva, Califano è una persona spettacolare, Califano apparteneva alla categoria degli incomprensibili, non poteva essere capito, ma aveva scritto delle canzoni stupende, una delle più belle canzoni di Califano era La mia libertà, era ricordata? Tu te la ricordi? sì. Però faceva, vivo la vita, così alla giornata, con quello che dà, la cantiamo insieme? Non mi piaceva. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà, bravo, bravo. E accendiamo un altro segreto. Da una finestra si affaccia una donna che il sorriso mi fa, è una di quelle, ma è bella, e stasera mi va. Sono figo della mignotta. Passo un'ora in sua compagnia, e poi vado via. Ragazzi, un saluto. Ciao Franco, sei un grande. Un saluto anche dal buon Giuseppe. Vuoi dire qualcosa in merito, Giuseppe? Un saluto a Franco Califano? Certo, un grandioso, un incomprensibile, come dicevi tu. Un libero nel pensiero, nel tempo. E io vorrei dedicare una poesia di Franco Califano ad una donna, che fa così, che c'è? Nessuno ti conosce come me. Ho già capito tutto, da quando ti hanno detto che sono matto, c'è pure qualche mia pazzia, magari che te botto, vada via, vada via, andovato. Ciao ragazzi, vi amo. Ciao Grant. Au revoir. Ciao.